Ciao Ines Benassen, sei contenta di aver acquisito la cittadinanza italiana? Sì, sono molto contenta, ringrazio il Comune per avermi dato la possibilità di acquistare questa cittadinanza, ringrazio infinitamente. Sono andata qua e sono cresciuta e vorrei appunto averla, quindi grazie. Tu sei di origine? Tunisina. Tunisina. E cosa fai adesso? Adesso studio al quarto anno all'ITIS di Vercelli e faccio informatica per diventare una futura ingegnera magari. Ah ecco, hai intenzione poi di frequentare, di andare all'università? Sì, io voglio. Grazie, ciao.